ciao domici ciao domiche come va spero tutto bene ma in tutto questo tempo quanta acqua è passata sotto i ponti veramente tanta ovviamente non ci troviamo su un fiume ma vicino al mare però comunque idealmente il concetto è rappresentato questo video è speciale perché voglio festeggiare i nostri mille iscritti e il modo migliore per farlo è stato chiedere ad alcuni di voi di farlo insieme a me quindi adesso lascio parlare i veri protagonisti del mio canale ovvero voi tutti e noi ci vediamo alla fine con i saluti ciao vincenzo sono qui per fatti i miei più grandi e sentiti auguri per il raggiungimento di questo tuo primissimo obiettivo ovvero il raggiungimento dei mille iscritti ovvio che questo obiettivo è semplicemente di partenza non sicuramente d'arrivo trai da questo in maggiore energie per tutti i tuoi progetti futuri ovviamente continua così che vai veramente alla grande quindi ancora tantissimi auguri in bocca al lupo per il futuro è ovviamente viva survival domani ciao vincenzo volevo dirti che sei davvero formidabile mi piace tantissimo continua così perché sei intelligente sei perspicace sei dinamico sei guarda davvero ti stimo moltissimo complimenti per i tuoi mille iscritti saranno molti di più ne sono sicura e avanti tutta bravo 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 un bacione dell'azza family ragazzi ti saluteranno un'altra volta perdonami ma ti seguono sempre molto volentieri un bacione grandissimo ciao e auguri ciao vincenzo ti faccio i miei più sentiti auguri per il raggiungimento dei mille iscritti ovviamente un augurio a tutti di maggio ok speriamo di rivederci presto intanto un abbraccio da explorer world ciao ciao a tutti ragazzi io sono grazie e sono qua per fare tantissimi ma tantissimi auguri a voi che avete raggiunto un ottimo risultato sì che ci sto arrivando anche io però ragazzi grandi io continuo a seguirvi amici miei amica vostra e vi auguro tanti e tanti successi ancora di più ciao vincenzo complimenti per il traguardo dei mille iscritti sul tuo canale survival domaccio ciao salve a tutti domamici sono toni del bosco e sono qui per fare le congratulazioni a vincenzo grande vincenzo abbiamo raggiunto i mille adesso questo è un piccolo passo e andiamo sempre avanti così speriamo di raggiungere i 10.000 tantissime congratulazioni survivor domaccio per il traguardo che avete raggiunto ve lo siete meritato continuate così mi raccomando non vi fermate perché la tenacia e l'impegno ripagano sempre un saluto dalla vostra maddalena ciao ciao vincenzo giunto a questo tuo grandioso traguardo ragazzi io volevo semplicemente complimentarmi con voi e ricordarvi che ogni singolo iscritto ogni singolo di quei mille iscritti che avete raggiunto equivale a una persona che crede nel vostro progetto che crede in voi perciò complimenti e noi ci vediamo presto con nuove storie dalla ciao ciao vincenzo complimenti per il canale grandissimo olà vincenzo la famiglia domaccio parabéns parabéns e sucesso sempre mil inscritos a caminho dos 10 mil un beijo do suo amigo alberto direto aqui do brasil ciao vincenzo ciao survivor io e zo vi facciamo i complimenti per il traguardo che avete raggiunto avanti così bravissimi ciao vincenzo tanti tanti auguri per i mille iscritti ciao dai due veci ciao 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 a tutti i veri e brutti complimenti complimenti a vincenzo e a tutto lo staff siete fortissimi e grazie per la meravigliosa avventura che abbiamo passato assieme ne vedremo altri sicuramente auguri a voi saluti ciao ciao vincenzo e ho visto con grande piacere che anche tu sei arrivato ai mille iscritti complimenti e direi 100 di questi giorni o meglio mille di questi iscritti quindi bravissimo così amico mio avanti tutta e viva il canale survivor domaccio ciao ciao vincenzo ho visto che raggiunto il traguardo dei mille iscritti grandissimo continua così ciao un piccolo saluto al vincenzo e al survivor domaccio complimenti per i migli iscritti ciao ciao vincenzo sono felicissimo che anche tu hai raggiunto un bel traguardo su youtube c'è quello che vende la frutta che sta facendo un casino che non ti dico e niente ti voglio fare tantissimi auguri e dato che adesso sei uno youtuber a tutti gli effetti mi raccomando vienimi a trovare così ti faccio un po' di pubblicità mi raccomando ciao carissimo un bacione ciao san benenico a tutti baciamole mani vincenzo un augurio a subvargo domaccio da cucina in armonia con Rosalia speriamo che cresca ancora di più perché il tuo canale è davvero interessante sia un grande piccolo uomo un bacio e auguri ciao vincenzo volevo farti complimenti per il traguardo dei mille iscritti e augurarti mille altri di questi traguardi un saluto da Livigno un saluto da Livigno ciao vincenzo e complimenti per il mille iscritti forza vincenzo ciao 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 vincenzo augurone per i tuoi mille iscritti e mai avanti così che sei un grande ciao francesco di trecaveli ciao io sono Zio Giovini sono qui per fare tantissimi auguri per i tuoi mille iscritti a survivor e domaccio ti auguro che questo percorso può crescere tanto di più quindi auguri i tuoi mille iscritti auguri ciao vincenzo ti voglio fare i miei più sinceri complimenti per questo super traguardo bravissimo mille iscritti non è una cosa da nulla allora in bocca al lupo che questo canale continui a crescere tantissimo un abbraccio forte a te e tutto il canale survivor domaccio eccoci tantissimi complimenti a survivor domaccio per il raggiungimento dei mille iscritti un gran bel traguardo continuate così un caro saluto dalla Torre Pazzone Caffè San Giusto di San Doligo della Valle Dolina ciao Hola Vinci come estas? Nosotros muy bien Por fin salio il sol y vamos a prepararnos para salir en el mar con dilettami Esperamos de verte muy pronto Un besos y un adios Bye bye un abrazo Ciao Vincenzo e complimenti per i tuoi mille iscritti Hello Ciao Eccoci di nuovo qui stavolta in Piazza Unità d'Italia e spero che questo progetto vi sia piaciuto Ringrazio tutte le persone che hanno voluto collaborare in questo progetto Ovviamente non sono tutti gli amici che mi hanno supportato in tutto questo tempo idealmente li rappresentano Vi invito ad andare giù in descrizione dove troverete tutti i loro canali YouTube e i loro riferimenti Ciao ragazzi a un prossimo video Ciao Ciao